Vuoi cucinare una fantastica colomba artigianale vegan al cioccolato? Ti garantisco che puoi farlo anche tu e vedrai che risultato. Ma c'è un però, purtroppo non ti posso insegnare come farla con uno shorts o un reel, ma posso insegnatelo con un mio corso dedicato a tutti, professionisti e amatori. Clicca sul link nel primo commento e scoprirai tutti i dettagli di questo mio corso online, colomba artigianale vegan. Ti aspetto in classe per cominciare subito questo percorso insieme.